Posso dire che le prime due puntate di Call My Agent Italia siano state veramente divertenti e di intrattenimento? Stiamo parlando della nuova serie Sky Original in sei puntate, reperibile anche su Now, diretta da Luca Ribuoli, regista che avevo apprezzato nella bellissima Speravo De Mori Prima sulla vita di Francesco Totti, ma che aveva diretto anche Noi il remake della prima stagione di This Is Us, che ovviamente non era all'altezza dell'originale che sto recuperando, ma che non era nemmeno da buttare via, un buon prodotto che purtroppo non è stato rinnovato per una seconda stagione a causa dei bassi ascolti. Anche stavolta ci troviamo di fronte all'ennesimo rifacimento della serie francese Dix Pursente che ha avuto successo in tutto il mondo. Fatemi dire che per quanto mi dispiaccia che scarseggino le idee originali e quindi la creatività degli autori italiani, con Call My Agent Italia c'è un perché, c'è un senso all'operazione. Perché per chi non lo sapesse la serie parla del mondo dello spettacolo dal punto di vista degli agenti. In ogni puntata un personaggio famoso diverso alle prese con i provini, con la vita di tutti i giorni frenetica e ci soffermeremo su queste dinamiche interne all'agenzia. Sapendo che in Francia erano attori francesi e che in Italia avremmo visto attori italiani, il remake ha senso qua come avrebbe senso in America con attori statunitensi. Nella prima puntata la protagonista è Paola Cortellesi, bravissima, splendida, mentre nella seconda Paolo Sorrentino. Io penso proprio, sicuramente anche da amante del cinema, di essermi divertito ad ascoltare citazioni, ad ascoltare riferimenti a film, attori, ma già quando ci soffermiamo sulla scenografia all'interno dell'agenzia di Claudio Majorana e vediamo i poster dei film, prevalentemente anche di serie Sky, e quanto gli agenti, quelli che un tempo venivano chiamati, impresari si facciano la guerra fra loro, no? E a quanto ha chiuso il contratto con Marinelli? Io voglio chiudere il contratto con Borghi facendolo guadagnare di più, proprio gli agenti in questo caso sono come degli avvoltoi. Spicca, a mio modesto parere, Maurizio Lastrico, che è un attore, un comico che stimo, che interpreta Gabriele, che è il manager, che è l'agente di Paola Cortellesi, che è felicissimo perché è riuscito a farla entrare in questa serie di coproduzione statunitense sugli etruschi che verrà girata a Roma, solo che dopo che Paola Cortellesi, interpretata da lei stessa, fa delle interviste per Vanity Fair, tutta felice, una serie sugli etruschi, ho imparato il proto-etrusco, sembrerebbe una parodia di Romulus, no? E caspita, ho chiamato anche Alberto Angela per avere delle consulenze, mi sto preparando adeguatamente al ruolo. Ecco che Maurizio Lastrico, Gabriele, riceve una telefonata in questa prima scoppiettante puntata e viene a sapere che gli americani hanno scelto nel ruolo del re Brad Pitt, lei dovrebbe essere la principessa, la Cortellesi, ma notano che insieme non funzionino. Brad Pitt vuole una compagna più giovane in scena e quindi come dire specialmente dopo che Paola Cortellesi ha rilasciato già le interviste e che dava per certo questo suo nuovo lavoro, come dire che tutto è andato male. Quindi la prima puntata si baserà su questo cercare di risolvere una situazione allucinante, io mi sono divertito, sarà che nella vita faccio questo mestiere, certe dinamiche quindi sono anche a me familiari, non tanto perché le abbia vissute io ma persone che conosco e che me le hanno raccontate. Quindi vedere questa agenzia che si sviluppa come in uno strato gerarchico, al vertice c'è Claudio Majorana, il fondatore dell'agenzia, che è in vacanza e che non è per niente pronto a tornare anche perché ha la sua età e vuole quindi vendere le sue quote, lasciando un po' nel panico tutti gli altri, e successivamente un pochino più in basso ci sono gli agenti e ancora più in basso gli assistenti degli agenti, dalle particolari affinità perché ci sono alcuni agenti che non vanno proprio d'accordo con gli assistenti. Io devo dire di essermi divertito anche con il personaggio di Lea Martelli interpretato da Sara Drago che è questa agente che non riesce ad avere un buon rapporto con le proprie assistenti quindi fino a che poi ad un certo punto ecco che faremo la conoscenza di una nuova arrivata interpretata da Paola Buratto, Camilla Zanon, che scopriremo essere la figlia di uno degli altri agenti, cioè Vittorio Baronciani interpretato da Michele Di Mauro, solo che Vittorio Baronciani che è freddo, che è un calcolatore spietato, ha già una moglie e un figlio, quindi non vuole che si sappia di questa figlia avuta da una relazione extraconiugale che vive a Venezia Mestre ma che è venuta a Roma per trovare lavoro, pensate un po' questa ragazza verrà poi scelta come assistente dal personaggio che prima vi ho detto di Lea Martelli, quindi da cosa nasce cosa non vi voglio rivelare più di tanto nel caso la serie non l'aveste vista ma sappiate che tra poco inizierò gli spoiler perché è impossibile parlarne senza dirvi cosa sia accaduto. Quindi la prima puntata mi ha proprio divertito ma realmente di gusto delle anche queste scenografie con i poster dei film, con le serie Sky e vediamo Gomorra e vediamo a proposito della Cortellesi il film con Mastandrea Figli e uno dei momenti più belli delle due puntate quando c'è l'esempio di perfetti sconosciuti. Arrivano sceneggiature su sceneggiature, si ascoltano ogni giorno registi che propongono le proprie idee agli agenti per cercare anche di trovare un appiglio e c'è il flashback di quando da Vittorio si presentò Paolo Genovese, quindi c'è anche il cameo di Genovese che presenta l'idea di perfetti sconosciuti, ricordiamo il film che più ha avuto successo nel mondo italiano negli ultimi anni, svariati remake, è entrato nel Guinness World Record proprio perché lo hanno rifatto in tutte le zone del mondo e Vittorio che risponde ma dai un film teatrale al cinema tutti in una stanza con un cellulare ma fa immaturi tre, mi ha fatto morire quella scena e infatti poi Vittorio è andato da un altro agente, il film ha preso il via, è decollato, successo incredibile, addirittura Taiwan è arrivato e quindi si è fatto mandare la locandina del film, proprio dell'ennesimo grande successo in ogni parte del mondo, lo attacca questo poster sul muro a dimensioni gigantesche per far sì che ogni persona della Claudio Majorana quando si trova di fronte a questo poster possa pensare ogni progetto potrebbe essere l'eventuale capolavoro che ci potrebbe portare tanti soldi, state attenti a rifiutare ed infatti da questo guizzo della prima puntata ci soffermiamo sulla seconda, sempre incredibile a mio parere perché vediamo un Paolo Sorrentino che seppur sia rappresentato da Claudio, non tornando, non volendo più portare avanti il suo lavoro visto che ha una certa età, ecco che tutti gli altri cercano di strappare il contratto con Sorrentino, di portarlo nella propria cerchia e quindi quando arriva Sorrentino si mette al tavolino e tutti lì a fare i lecchini della situazione e rivela, c'è anche una grande marcia Ubaldi nei panni di Elvira Bo che è la storica agente che addirittura rappresentava il cane in Umberto D, vabbè, si mette a raccontare la sua idea per la nuova stagione dopo The Young Pope e The New Pope, Lady Pope con Ivana Spagna protagonista e tutti che bello, cioè si capisce che sia una cosa assurda, eppure qua si critica anche un po' questa sorta di paraculaggine, anche questo essere così lecchini, come non si riesce a dire no alla persona che ormai è arrivata ad avere successo e quindi sì, vorrei Ivana Spagna, madonna e perché no Lino Banfi, io stavo morendo con la nuova arrivata, l'assistente che poveretta è l'unica a rendersi conto Camilla che siano idee fuori dal normale, quindi ride ma non si permette di dire niente visto che già nella prima puntata aveva rivelato a Paola Cortellesi che non avrebbe più fatto parte della serie sugli Etruschi e poi scopriamo che in realtà fosse un pesce d'aprile, Camilla è stata l'unica ad averlo scoperto e quando, bellissimo, gli agenti iniziano a telefonare a Sanremo bisogna allagare tutto l'Ariston in Liguria e poi lui manda l'emoticon del pesce perché era il primo aprile, perché io amo fare gli scherzi, dice Sorrentino, perché mi annoio. Veramente un Sorrentino autoironico ma con i titoli di coda in cui vediamo Ivana Spagna veramente in quella breve partecipazione nei panni della Lady Pop io sono morto, ma così come mi è piaciuto il finale della prima puntata in cui Vittorio riesce a far sì che Paola Cortellesi, dopo che si è rifiutata di lavorare ancora con Maurizio Lastrico, faccia parte di questa serie. quindi la vediamo ma si deve sottoporre a un intervento chirurgico e tutta gonfia, ovviamente se ne pentirà e facendo due più due tornerà dopo la promessa strappata a Maurizio Lastrico a Gabriele tornerà con lui e questa serie che sembra proprio una rivisitazione di Romulus prende piede. quindi anche autoironica Sky Italia nel prendere in giro, nel citare produzioni proprie e rifarle in maniera sopra le righe in queste due puntate che mi hanno proprio fatto stare bene, un remake fra i più intelligenti che abbia visto negli ultimi anni con poi delle sottotrame che da quel che ho letto su internet sono pari pari identiche a quelle della serie francese come ad esempio il fatto che Camilla ad un certo punto passi una notte con questo ragazzo aspirante attore che conosce in agenzia per poi scoprire che sia il fratellastro, cioè il figlio di Vittorio. una sorta di rivisitazione dei cesaroni, vediamo un po' cosa succederà ma devo dire che come ho detto all'inizio della recensione con il fatto che qua si può parlare dell'Italia passano in secondo piano anche quelle dinamiche identiche perché l'aspetto più divertente è vedere questi attori, questi registi alle prese con questi agenti e anche tutte le citazioni e riferimenti alle pellicole nostre, ai prodotti nostri, agli attori nostri. Nella prossima puntata ci sarà Pierfrancesco Favino ma poi troveremo Matilda De Angeli, Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti. Sono sei puntate proprio come la serie francese ma spero possa avere il successo a differenza di noi per portare avanti questa serie, per vederla ancora e sicuramente poi recupererò anche Dix Pursente. Chi avesse visto l'originale può fare dei paragoni qua sotto, però ecco Sky Italia è difficile che deluda ed è quindi secondo me sensato recensire questi episodi, parlarne con voi, divertirsi assieme e se non l'aveste vista andate subito a recuperarvi la prima è la seconda puntata di Call My Agent e fatemi sapere. Vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, per abbonarvi al canale e che se vi abbonaste ricevereste in cambio dei contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Ho anche partecipato ad una nuova live sul canale di Matioschi per quel che riguarda la retrospettiva Pixar, stavolta a tema Toy Story 3 La Grande Fuga. Un caro saluto e alla prossima. Ciao ciao!